ciao fa caldo e ogni tanto la sera un bel drink ci sta no? oggi prepariamo un delizioso drink con lamponi e lime se non avete il lime potete usare benissimo il limone troppo buono grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti voi che seguite a tutti voi che provate a fare le ricette a chi commenta a chi lascia il mi piace insomma grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti